La Nissa ufficializza l'intesa con il portiere Claudio D'Amico, classe 2003, ex Due Torri, Sant'Agata e Sciacca, e il terzino destro Biagio Castelli, 19 anni, ex Primavera del Palermo. Sale così a tre il numero dei nuovi arrivi in casa biancoscudata, dopo quello del centrocampista Cuamè, ex San Cataldese. Diverse trattative sono ancora in corso. Il direttore sportivo Massimo Ferraro punta all'allestimento di un organico di tutto rispetto, sul quale il tecnico Alessandro Settineri sarà chiamato a lavorare per raggiungere il massimo risultato. Intanto è stata già avviata la campagna abbonamenti. Si spera in una massiccia risposta della tifoseria, che sui canali social sembra gradire con centinaia di like il percorso intrapreso dalla nuova dirigenza. A breve si potrà verificare se i tifosi da tastiera, soprattutto quelli che abitano a Caltanissetta, sapranno seguire da vicino la Nissa, acquistando il biglietto o l'abbonamento, oppure se, come in passato è accaduto più volte, si limiteranno a un sostegno platonico, fine a se stesso, criticando e bacchettando tutto e tutti alla prima difficoltà. Anche da questo dipenderanno le scelte della società.